La prossima relatrice è la dottoressa Liuva Capezzani, che è una psicologa con un curriculum spettacolare, psico-oncologa, specialista in psicoterapia senso-motoria, ha tutta una serie di pubblicazioni all'attivo, pertanto non mi dilungo e lascio la parola, perché proprio la parola è il tema del suo intervento e il titolo della sua relazione è appunto la parola nel pre, post e consecucio, malattia, funzioni biointegrate. Grazie, allora ben trovati a tutti, buonasera, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Franco Mastro Donato per l'invito e anche Giovanni Occhionero, un invito che per me è stato molto gradito perché ritrovo dei contenuti e delle persone con le quali in qualche modo ho dialogato in passato e anche perché è stata una sfida per me questa relazione, in quanto parlare di parola oggi in un tempo complesso, come si diceva prima, in cui per collegarci all'altra relazione il medium si sostituisce al contenuto, come dice Marshall McLuhan, per cui abbiamo strumenti, indagini diagnostiche, intelligenza artificiale che sopprimono le narrazioni, recuperare quella che è la parola in eclissi, significa in qualche modo andare ad attraversare tutta quella che è stata la produzione culturale storica dell'uomo, quindi la parola in antropologia, in filosofia, in psicologia, in medicina. Di fronte alla complessità la regola in qualche modo è un po' riduzionistica, se mi si fa sentire, cioè partire dalle basi, partire dall'inizio e quindi dall'etimologia. Dunque la parola dal latino è parabola, similitudine, dal greco parabole o paraballo confronto e dall'arabo dakbar che significa parola o evento, non l'arabo, è ebraico scusate. Ora sono tre, come si fa andare indietro? Sono tre etimologie che declinano e proiettano le tre funzioni principali della parola, la prima è la funzione descrittiva, simbolica, che poi matura in identificativa e narrativa, se per Platone e per la civiltà ellenica almeno la funzione descrittiva, per Platone in particolare la funzione descrittiva era prevalentemente una convenzione, un modo di indicare con un nome un oggetto, per Aristotele invece questa funzione è molto caratterizzante della specie umana, è identificativa della specie umana, ma soprattutto in qualche modo è attività che ci apre a quelle che sono le domande fondamentali della nostra esistenza, domande che la filosofia ci pone, chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, e che in un qualche modo il mito, la narrazione cerca di risolvere, perché nella tradizione ellenica antica la narrazione aveva una finalità che era oggetto di interesse della filosofia e questa finalità era che cos'era? era, oddio non era oggetto della filosofia ma era oggetto dell'indagine della filosofia, cioè era l'eternità, la sopravvivenza alla mortalità umana e quindi il fatto di poter vedere sopravvivere il proprio nome nella storia significava in qualche modo superare la morte, vincere la morte. Aristotele dava pari dignità alla filosofia e alla mitologia perché entrambe si confrontavano con il mistero, non con la certezza ma con l'ignoto, con quello che l'uomo non è in grado di conoscere in anticipo e quindi per Aristotele la parola doveva avere anche una resa di fronte a questo mistero, diversamente da quanto accade oggi dove la parola è manipolazione soprattutto. La seconda funzione è quella relazionale, cioè quella che stabilisce una relazione tra la parola e gli oggetti e per declinare in una citazione latina questo concetto prendiamo quello di Catone che dice rantene verba sequentur, cioè quando io posseggo l'argomento le parole vengono da sé. Un concetto che noi possiamo anche capire negli studi della neuropsicologia attraverso l'effetto Stroop dove se noi chiediamo ad una persona di leggere delle parole di colori, colorate, con dei colori diverse dal nome che indicano, abbiamo dei tempi di risposta, dei tempi di latenza molto più lenti rispetto a quando noi leggiamo delle parole di colori colorate con lo stesso colore del nome con cui vengono indicate, cioè quando non c'è l'accoppiamento tra parole e contenuto abbiamo una dispersione delle nostre energie e anche un disorientamento cognitivo. La terza funzione è quella generativa, il Vangelo secondo Giovanni ci racconta che in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, poi nella Genesi si dice che Dio una volta create le cose chiamò Adama e gli disse dai un nome alle cose, in qualche modo c'è la parola come potente e generatrice e dall'altra l'uomo con la responsabilità di attribuire un nome alle cose e quindi di esercitare un libero arbitrio e di trovare quella connessione, quel patto che c'era, che era indicato nella citazione precedente cioè tra oggetto e nome. Quindi c'è anche un po' di soggettivizzazione della parola. Che cos'è la parola in medicina? Ci dice Gorgia nell'Ogio di Elena che la parola è farmacon, cioè sia rimedio che veleno. Dice la parola è un gran dominatore, c'è tra la potenza della parola e la disposizione dell'anima lo stesso rapporto che tra l'ufficio dei farmaci e la natura del corpo, come infatti certi farmaci eliminano dal corpo certi umori e altri altri e alcuni troncano la malattia, altri la vita. Quindi se noi volessimo cercare delle evidenze scientifiche che ci parlano della parola come farmacon e in senso positivo e in senso negativo possiamo citare lo studio Fiore condotto dalla fondazione Giancarlo IV all'Università di Padova in cui è stato chiesto a circa 140 volontari di leggere delle vignette dove erano rappresentate delle interazioni sociali con dei rinforzi positivi e negativi e neutri. I rinforzi sono quegli elementi che aumentano la probabilità di emissione di una condotta o la diminuiscono nel caso negativo. Per esempio se io ringrazio una persona nel momento in cui mi offre un caffè è molto probabile che questa persona aumenti le probabilità di rioffirmelo. Se io non ci bado, lo scanso, me ne vado senza salutare è molto probabile che quella persona non ripeta quella condotta. Quindi i rinforzi positivi sono quelli che soddisfano un po' i bisogni di reciprocità, i bisogni di riconoscimento dell'umano o delle emozioni o dei bisogni fisici, mentre i rinforzi positivi sono quelli che in qualche modo soddisfano questi bisogni. Ora, mentre le persone guardavano queste vignette, i ricercatori realizzavano delle registrazioni, delle immagini tramite risonanza magnetica e hanno visto che i rinforzi negativi vanno ad attivare, nel momento in cui le persone le osservano, le aree del dolore o comunque tutti i circuiti che hanno una connettività con le aree predisposte alla percezione del dolore. Non solo, ma hanno anche visto che laddove c'era un rinforzo negativo vi era anche un'attivazione delle aree motorie, come se le persone tendessero a fuggire dalla situazione, quindi un evitamento. Un'evidenza che sostiene come la percezione delle parole adeguate, la percezione e la ricezione di parole aggressive in qualche modo mettano in atto dei meccanismi di fuga rispetto a uno stimolo che è stressante, che è lo stimolo del dolore, quindi le parole possono ferire. Una seconda evidenza, forse qualcuno già la conosce, non sono studi recenti, sono gli studi di De Benedetti sull'effetto placebo. Allora l'effetto placebo consiste, in poche parole, nel somministrare a due gruppi di soggetti, ad un gruppo un farmaco all'altro gruppo un non farmaco, facendolo però passare come un farmaco e quindi non dando ai soggetti che stanno nell'esperimento informazioni rispetto al placebo. Ora quello che si vede è che anche sotto placebo molti soggetti danno risposte significative in senso di cambiamento positivo rispetto ad altri che invece non prendevano questo farmaco. Quindi si è visto che l'effetto placebo è in realtà un evento psicobiologico che dipende molto dalle aspettative, dagli apprendimenti e anche dai condizionamenti, diciamo dagli apprendimenti perché si è visto anche che dove le persone avevano ricevuto un trattamento farmacologico con grande beneficio e poi veniva riconsegnato un placebo di cui ero nignari e per i quali sapevano di dover riassumere quel farmaco, il farmaco di cui avevano beneficiato precedentemente, la risposta è stata ugualmente positiva. Quindi apprendimenti di esperienze positive con i farmaci o con qualunque altro tipo di esperienza mi permettono di rispondere nello stesso modo se ho delle condizioni esterne ambientali che me le rappresentano simbolicamente come tali. Quindi la rappresentazione, la simbolizzazione dei contesti sociali e dei contesti che ci circondano possono condizionare le nostre aspettative e quindi anche le nostre risposte psicofusiologiche. In particolare si è visto che dall'esperimento le suggestioni verbali positive sono in grado di attivare i recettori opioidi, la via della cicloossigenasi e i recettori della dopamina, esattamente come fanno i farmaci. In particolare si è visto che con l'effetto placebo vengono attivate le aree prefrontali che sono quelle deputate alla creazione delle aspettative e alla valutazione delle condizioni che ci riguardano. Quindi aumenta la connettività di queste aree, connettività che invece non aumenta nei soggetti con l'Alzheimer o che hanno dei problemi in queste aree. Altra evidenza è quella portata da un gruppo di psicoterapeuti che appunto hanno lavorato sui vissuti traumatici dei pazienti che avevano subito in qualche modo esperienze gravi e dolorose per le quali avevano manifestato e maturato delle sindrome come per esempio forte attivazione psicofisiologica, disregolazioni, disturbi del sonno, disturbi cognitivi, difficoltà di concentrazione, difficoltà nel modulare i ritmi sonnoveglia ma anche quelli alimentari. Quindi una grossa di disregolazione psicofisiologica e hanno visto che sotto trattamento, un trattamento particolare, l'EMDR, ma vale anche per altri tipi di psicoterapia, le registrazioni elettroencefalografiche effettuate prima, durante e dopo questo trattamento e sotto racconto dell'esperienza traumatica manifestavano delle differenze. La differenza principale che si è notata è che durante e dopo il trattamento con l'EMDR esiste una maggiore attività elettrica del sistema frontale sui sistemi sottocorticali, cioè il sistema lobofrontale in qualche modo va a modulare quelle che sono le disregolazioni dei livelli limbici sottocorticali favorendo in un secondo tempo un riequilibrio e una riappropriazione di quello che era il benessere precedente. Tutto questo però poteva essere in qualche modo percepito in anticipo attraverso la narrazione del soggetto, cioè dopo il trattamento se noi chiediamo alla persona di raccontare la storia traumatica vediamo che la loro narrazione cambia decisamente rispetto alla narrazione che facevano in anticipo, cioè una narrazione molto più organizzata, non più un'insalata di parole come diciamo e quindi ci sono nuove connessioni che permettono alla persona di rappresentare la storia, di averne memoria, di guidare la memoria, di rappresentarla e di verbalizzarla coerentemente. Questo poi è una ricaduta sulla condotta e anche sui sistemi psicobiologici. Se per la medicina la parola è un farmaco che cosa può essere per il paziente a seguito di quest'altra evidenza? Esiste uno studio di Mell pubblicato su PNAS il quale dice che le parole usate dai pazienti possono rivelare quella che è la loro espressione genica anche quando loro non siano consapevoli della propria difficoltà e hanno notato che persone che avevano vissuto delle esperienze traumatiche e dalle cui analisi dei propri bianchi risultava una maggiore espressione genica di geni correlati alle avversità e quindi allo stress usavano maggiormente avverbi tipo prevalentemente maggiormente sicuramente perché gli avverbi sono dei rafforzativi in qualche modo e vanno a manifestare quella che è ancora la loro tensione. Di questa situazione i pazienti non erano consapevoli. Questo vuol dire che lo studio, più che lo studio insomma l'osservazione del linguaggio usato dai pazienti durante i colloqui possono dare un'indicazione di quella che è stata la loro storia, di quella che è la loro sofferenza anche quando il paziente vi racconti che sta bene. Basta raccogliere queste informazioni e vedere come si compone del linguaggio. Quindi nel paziente la parola è anche un segno clinico ma è anche un sintomo della passione cioè laddove la parola contraddice l'emozione perché il pathos del sintomo eccede noi non dobbiamo dire che quel pathos non è vero. Prima si parlava delle verità. Il pathos non ha bisogno di essere definito come vero o come falso. È una fenomenologia che noi dobbiamo raccogliere come operatori. Perché? Vi racconto il caso brevemente di questa mia paziente che ha una sclerosi sistemica e una sindrome di Rhinol associata. Va dallo specialista e siccome lo specialista sa che questa paziente ha una condizione preclinica, cioè questa malattia non ha ancora coinvolto gli organi interni, nel momento in cui la paziente riferisce di avere diciamo delle manifestazioni alle mani che le danno molto fastidio, lo specialista risponde guarda che hai una situazione preclinica, se tu hai queste situazioni alla mano immagina di avere un corpo con le mani staccate. Cosa fa il clinico? Scotomizza. Anziché integrare psichemente, scotomizza. Ecco qui andiamo nell'esatto contrario di quella che è la funzione psicobiologica integrata. Noi dobbiamo cercare di integrare quelli che sono i livelli mentali con quelli somatici, in senso olistico. Perché poi quando noi parliamo di epigenetica e parliamo di funzioni biointegrate, parliamo di un incontro tra l'ambiente, che può essere materia, l'esperienza soggettiva che è la percezione ed è rappresentazione anche, e poi la parte biologica. Quindi è un incontro di tre dimensioni, non possiamo scotomizzarle. Altra cosa è che, se vogliamo arrivare al tema dell'intervento, quali sono le funzioni biointegrate della parola in fase pre-malattia, cioè prima che la malattia si possa esprimere. Qual è il terreno su cui cresce la malattia attraverso la parola? O qual è il terreno che invece non la favorisce? Ecco, la parola che favorisce la funzione biointegrata è quella che facilita processi di osmosi evolutivi tra habitat, ambiente, cognizione, esperienza soggettiva e anche narrazione. È quella che riconosce che attenzione valorizza l'uomo e quindi che non compete con l'uomo, ma che crea un patto con l'uomo e col nome del vicino. È quella che crea un patto con Franco, un patto con Giovanni, un patto con gli altri. È quella che incontra l'uomo e la sua diversità. È quella che pur essendo ambigua, perché ambigua l'uomo, appunto mantiene questo legame, questo patto e questa unione tra significato e significante o cerca di tradurlo e di interpretarlo. Ed è quello che può tutto, è la parola che può tutto, che in fase di premalattia può far ammalare o può prevenire. Allora, se la parola in fase di premalattia ammala, ammala perché? Ammala perché, come dicevo all'inizio, succede che la cultura e la tecnica comprimono la narrazione, il medium ha il messaggio. Le indagini strumentali, l'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato, sostituiscono la narrazione, la sopprimono, non c'è più tempo per raccogliere e per significare quelli che sono i sintomi dei pazienti, la narrazione dei pazienti. L'illusione della certezza che danno le indagini strumentali e l'intelligenza artificiale e quindi la delusione che segue a questa illusione di certezza. Perché poi ricordiamoci sempre che esiste un mistero con cui noi ci confrontiamo quando abbiamo una malattia che è proprio quella di dire che ne sarà di me dopo, che cosa succederà dopo, il mistero con la sopravvivenza, della sopravvivenza o della morte. E poi la parola che ammala è quella dove insegnanti, genitori, coach, influencer hanno come approccio pedagogico a quello di dare soluzioni pratiche, di dare i manualetti, di dire si fa così, si fa cosà, invece che favorire processi di individuazione, processi di riflessione, processi dove manteniamo alto il dubbio e dove manteniamo costante la ricerca. Ecco il post malattia, la continuità. È la parola che dà consolazione invece che meraviglia, è la parola che trascura e che frammenta. Questo è un altro caso. Ve lo posso dire, si tratta di mia madre che è caduta recentemente, si è fratturata un po', ma soprattutto dopo la caduta ha avuto un problema all'orecchio, cioè non aveva un brutto suono all'orecchio. Fa un accertamento e le dicono che lei in quell'orecchio aveva il 70% di udito in meno, ma era una cosa precedente alla caduta. E quindi nel momento in cui mia madre diceva, ma no, ma io questo sintomo ce l'ho da quando sono caduta, la specialista dice, non è vero niente, tu non hai questo sintomo perché sei caduta e questo sintomo perché ce l'avevi già prima in quanto hai un udito scarso che è andato giù. Ora, si può dire non è vero niente a una persona che dice, io ce l'ho questa cosa? Non si può. Qual è stata la reazione? Che io non c'ero, però mia madre mi ha detto, mi sono sentita proprio nulla, cioè come se non valessi proprio nulla, proprio mortificata. E quindi fondamentalmente il concetto è ancora quello, è quello di riconoscere la dignità della parola della persona, a prescindere poi da quello che dice l'accertamento, non confondere il piano delle cause con le conseguenze, perché non c'è sempre una diretta connessione tra le due. E quindi la parola che ha male in prima malattia è quella schiacciata, è quella trascurata, è quella che offre certezze, che nega il patos del sintomo e lo scotomizza. Ma nella malattia, quando arriviamo alla malattia, la parola che cura è quella che narra, è quella che simbolizza, un po' come ci racconta Levi Strauss nell'efficacia simbolica, dove appunto una paziente viene curata grazie a una visione metaforica di se stessa che guareva. E questo ci mette di nuovo in relazione la mente con il corpo, ci mette nella condizione di capire che la mente viene incorporata e che noi abbiamo, in psicologia si dice embedded, la mente incorporata, embodied ed embedded, quindi vanno insieme corpo e mente, parole e atteggiamenti e posture. La parola che cura è anche quella che mette in relazione la cultura con la salute, ha fatto un ampio discorso prima a Cavicchi su questo, è quella in cui si accudisce e ci si attacca alle persone che ci accudiscono in maniera proporzionale, mantenendolo a giusta distanza. Ecco, allora se noi vogliamo andare al post-malattia, la funzione più integrata della parola è quella che soddisfa i bisogni di continuità e di speranza verso il futuro, è quella vicina che non abbandona, è quella che ancora realizza il libero arbitrio, che narrativizza, è quella che si rigenera e genera. La parola nella conseguuzione o malattia o senza funzioni biointegrate invece è quella che non tiene memoria, come si diceva, è quella che non tiene la storia, è quella che non tiene le fila della storia, è quella che è delusa dalle certezze ed è quella eclissata. E allora se noi dovessimo andare alle conclusioni, volendo andare alle conclusioni, ho pensato di creare questa metafora dopo la lettura di questo passaggio del paradiso di Dante in cui lui dice nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze accidenti e loro costume quasi conflati insieme per tal modo che ciò a chi dico è un semplice lume. Lui usa la metafora del libro per indicare che il mondo in quel modo si squaderna, si scompone, si spagina. Ecco, la conclusione è questa, se le lettere di una parola fossero atomi di un sistema biologico complesso, le parole sarebbero molecole, mentre il linguaggio individuerebbe l'uomo nella sua visione olistica, biopsicosociale o epigenetica, ciò che lo rende sano e unito all'universo è l'amore di comprendere e di comprendersi. Grazie. Grazie. Grazie Lula.